bella a tutti ragazzi qui è teddy e benvenuti in un nuovo video oggi parliamo di james harden il barba mi sono messo in rosso anche proprio come come la maglia di houston che ha giocato stanotte contro il san antonio spurs e c'è stato il debutto di james pansen mi verrebbero a dire perché insomma quella panzettina lì da 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 step back free era abbastanza imponente devo dire però potrebbe essere sostanzialmente il segno che l'era james harden è finita gli houston rockets potrebbe essere il segno definitivo che lui don't give a damn non gliene frega assolutamente nulla di rimanere in texas a houston ora prima di andare avanti con il video faccio una precisazione riguardo alle trade che vedremo in questo video le trade in questo video non sono tutte applicabili oggi quindi nella pre season ma alcune possono essere fatte solo o dopo l'inizio della regular season quindi dopo il 22 dicembre addirittura alcune oltre il 24 dicembre altre addirittura a febbraio una in particolare può essere fatta solo a febbraio perché è stato firmato un giocatore e quindi la possibilità di trade si attiva a febbraio quindi ecco prendete queste trade come possibili alcune impossibili ovviamente mi piace sapete che mi piace mettere qualche fanta trade clamorosa all'interno di queste di questi video però sappiate che sono tutte possibili a tutti gli effetti solo con tempistiche diverse ora io per ogni trade vi dico secondo me se dovesse avvenire in che periodo potrebbe avvenire e direi di fare un resoconto al volo della situazione Arden beh come sapete dopo l'eliminazione brutta da parte dei Lakers nella bolla nella quale Houston onestamente non sembrava una squadra unita anzi sembrava una squadra di 15 giocatori che volevano fare un po' i fatti loro il caso House onestamente era il voglio dire per carità nel senso vabbè comunque ecco il caso House un po' sottolinea questo fatto e sono stati eliminati molto male e è saltato tutto è saltato l'allenatore è saltato il GM Daryl Morey è saltato McDantony come allenatore e poi Westbrook ha chiesto la trade e subito a ruota a ruota letteralmente a ruota James Arden ha chiesto a sua volta la trade Westbrook è stato mosso recentemente settimana scorsa mandato ai Washington Wizards letteralmente dalla disperazione quasi hanno preso John Wall che è un giocatore che non gioca da due anni e mezzo che l'ho visto bene Muro eh in queste partite di pre-season è vero è solo pre-season però onestamente l'ho visto bene per un giocatore che non gioca da due anni così come KD l'ho visto bene per un giocatore che non metteva piedi in campo da 553 giorni sembrava che l'arrivo di John Wall potesse quantomeno far cambiare idea ad Arden nel senso che lo stesso Wall ha detto no no ma io e Arden ci siamo parlati in questi giorni e lui ha detto che con me vuole giocare con me vuole provare esce Wognaroski l'altro ieri il buon Wosh e fa guardate che insomma ad Arden frega assolutamente un cazzo di John Wall lui se ne vuole andare quindi James Harden oramai sembra proiettato fuori da Houston almeno lui si proietta fuori da Houston in questo video voglio mostrarvi delle trade che potrebbero accadere per far sì che James Harden e gli Houston Rockets perché sono gli Houston Rockets che devono accettare non Arden non è un sign and trade possibili trade che gli Houston Rockets potrebbero potrebbero diciamo rilevare come attinenti al loro progetto e quindi tradeare James Harden che ha un contratto abbastanza spaventoso si parla sopra i 40 milioni si parla di 41-44 e player option sul terzo a 47 milioni solitamente un contratto del genere va esteso sarà difficile che Arden cambierà squadra una volta che l'avranno tradeato solitamente l'estensione contrattuale è quasi obbligatoria con un contratto del genere quindi la squadra in cui entra Arden sarà molto probabilmente molto probabilmente la sua squadra per i prossimi almeno altri 5 anni credo io comunque partiamo dai Philadelphia 76ers perché i Philadelphia 76ers hanno al momento il miglior shot quindi secondo me sono la squadra più indicata per James Harden ora oltre a ritrovare Daryl Morey come general manager che è il GM che sostanzialmente ha portato Arden a creare la squadra a creare Houston che ha portato Arden all'essere da 20 triple consecutive dall'NBA Finals e probabilmente dall'Anello visto che dall'altra parte c'era solo LeBron e nessun altro troverebbe un sistema di gioco che è molto simile alla Houston che lo ha portato a 20 triple di fila dall'Anello o comunque dalle finali NBA ma secondo me sarebbe stato poi Anello ritroverebbe un giocatore simile al buon Capella che tornerà più avanti quindi vi lascio immaginare che squadra ho inserito ritroverebbe un giocatore come Capella ovvero un centrone uno grosso che sta lì sotto ovvero Joel Embiid ma la differenza tra Embiid e Capella è abissale però ovviamente non stavo paragonando Embiid e Capella sullo stesso livello li paragonavo come tipologia di giocatore cioè Embiid è un giocatore grosso che sta lì sotto sgomita ecco Capella uguale no? solo che Embiid è chiaramente un giocatore di 4 spanne superiori ovviamente Philadelphia dovrebbe rinunciare a Ben Simmons che è quello che Houston ha detto a Philadelphia volete Arden? perfetto Simmons 3 picca al draft e poi ne discutiamo ora Simmons per Arden non basta non può bastare non solo dal punto di vista del valore di Arden ma anche dal punto di vista salariale perché sia Fila che Houston sono in luxury e quindi i contratti devono essere pareggiati per poter avere valenza quindi io ho pensato di inserire Mike Scott perché sono 5 milioni persi Tony Bradley che sono altri 3 milioni e mezzo persi per Houston quindi liberano 8 milioni e poi Ty Bull perché comunque devi inserire un giocatore futuribile e se non vuoi inserire Tyrese Maxey inserisci Ty Bull visto che Maxey l'ha preso quest'anno e le 3 pic al draft sono la 21, la 23, la 27 perché ho dovuto inserire la 21, la 23, la 27 perché la 2025 è stata mandata agli Oklahoma City Thunder per all'Orford quindi per la regola Stapien né la 2024 né la 2026 Philadelphia le può spostare a meno che non si tratti di uno scambio migliore scambia peggiori in quel caso Philadelphia tiene la pick però se la scambia con un'altra squadra potrebbe anche essere con Houston potrebbero fare letteralmente 21, 23, 27 fisse quindi magari con protezioni 1,14 o 1,5 1,3 insomma aggiunge le protezioni io qua le ho messe senza protezioni perché onestamente ho messo 12 trade se l'avessi fatto per tutte le trade sarei esploso anzi tra l'altro devo ringraziare Pierluigi Davi e Roby che mi hanno aiutato in queste trade ieri notte per ieri notte intendo ieri notte letteralmente e quindi ecco sarei impazzito se avessi messo le protezioni comunque sicuramente potrebbero essere il centro delle protezioni e volendo se Philadelphia è proprio disperata potrebbe anche inserire lo scambia migliore scambia peggiori sulla 24 e sulla 26 questa trade quando avviene? questa trade secondo me non avviene prima dell'inizio della stagione regolare per un semplice motivo Ben Simmons Philadelphia vuole provare il suo nuovo assetto da guerra vuole provare la nuova squadra con Simmons e Embiid almeno in regular season non in pre-season in pre-season si hanno battuto Boston ma onestamente la pre-season vale meno di zero per quanto riguarda i pronostici per quanto riguarda invece magari il poter stare in campo schemi e quant'altro forse un pochino più di valenza ce l'ha certo Philadelphia ha vinto anche bene contro Boston anche se Maxey ha fatto il fenomeno nel quarto quarto però Simmons pareva a suo agio in quella fase offensiva secondo me vediamo questa trade accade se Philadelphia fa male se Philadelphia ha problemi se Philadelphia continua ad avere quel problema Simmons e Embiid che non riescono a stare insieme in campo nonostante l'addio di Orford nonostante l'arrivo di un sacco di tiratori se questo dovesse essere ancora il problema allora secondo me Morey si arrende all'evidenza che Ben Simmons e Joel Embiid non possono giocare insieme e allora salta tutto e arriva James quindi credo che questa trade se avviene avviene più avanti avviene verso la deadline o comunque avviene diciamo durante quel periodo lì perché farlo prima farlo adesso che è meno di una siamo meno di una settimana oggi è il 16 dicembre iniziamo il 22 quindi è meno di una settimana prendere un giocatore come Arden meno di una settimana prima dell'inizio della stagione regolare insomma è un cambiamento grosso nel senso non è che prendi Arden e lo piazzi lì ok va bene abbiamo preso Arden insomma ci vuole un po' di lavoro ecco quindi sarebbe un grande rischio per Fila fare una settimana prima della regular season devono essere convinti al 100% che Arden si integri perfettamente che onestamente ho dei dubbi circa l'integrazione totale di James Arden nel sistema Rivers però questa secondo me è la trade più diciamo la trade più fattibile perché Fila tanto voglio dire Fila ha fatto all-in un anno dietro l'altro questo sarebbe l'ennesimo è vero sacrificherebbero per la prima volta una delle due star che è Ben Simmons sacrificherebbero il futuro perché la 2025 è andata ne darebbero altre tre inserirebbero anche Tybull in tutto ciò però per prendere Arden insomma se se Fila dovesse prendere Arden sarebbe difficile non vederla come la miglior squadra a Est quindi è un rischio sicuramente per Fila più che altro perché dai via Ben Simmons è il tuo futuro per Houston sarebbe un nuovo inizio quindi Ben Simmons Wall tre pick al draft Tybull sarebbe una ripartenza che è quella che Houston vuole l'unico problema è che le pick al draft devi sperare che Arden vada via e Embiid faccia lo stesso in modo che siano pick abbastanza alte perché onestamente parlando altrimenti se Arden e Embiid dovessero rimanere e Philadelphia dovesse essere una squadra vincente quelle pick lì sono pick che valgono poco quindi alla fine hai preso solo Ben Simmons che per carità potevi prendere di peggio però alla fine hai preso solo Ben Simmons e le pick al draft che hai preso sono state pick che si sono rivelate non all'altezza della situazione ora next trade questa è l'altra e beh qua si manda ai Brooklyn Nets c'è poco da dire qua ci deve andare anche PJ Tucker per forza questione salariali qui più che altro anche se PJ Tucker e Arden sono sempre stati fotografati insieme tra l'altro PJ Tucker ha saltato le due partite con Chicago se non sbaglio ieri che è tornato Arden con San Antonio ha giocato PJ Tucker quindi PJ Tucker e Arden sembrano molto uniti sembrano molto sembrano molto legati no Arden e PJ Tucker anche se PJ Tucker ha chiesto l'estensione contrattuale a Houston ma onestamente non credo che l'avrà perché oramai ha 35 36 anni e e credo per lui valga forse più la pena andare in una squadra a titolo che chiedere l'estensione contrattuale a Houston che potrebbe che non so neanche per quanti anni gliela può fare visto che comunque il PJ ha una certa età quindi insomma chiedere un estensione certo per lui chiedere l'estensione contrattuale pluriennale è un è ipotecare il futuro cioè nel senso che appunto hai soldi garantiti pluriennali ti va bene però da parte di Houston no dalla parte di Houston liberare il contratto di PJ Tucker a 8 milioni è sicuramente un vantaggio in vista di un addio di James Harden quindi in questo caso tu cosa fai beh li impacchetti insieme e li mandi ai Brooklyn Nets qui ho messo due pick solo due pick perché comunque dentro ci sono Lever e c'è Jarrett Allen insomma diciamo che il pacchetto giovani qui sarebbe a tre ovvero Dean Witte Lever e Allen a dire il vero sarebbe a due con Lever e Jarrett Allen più due pick future che sono tutte e due post Kyrie post KD e post James Harden la 24 e la 26 e insomma beh questa è l'altra trade beh i Nets farebbero l'in prenderebbero PJ Tucker in rotazione come esperienza darebbero via tutta la panchina più tutti i giovani più le pick che contano le pick future però se devi vincere il titolo se pensi che per vincere il titolo questa mossa va fatta la fai nel senso ho poco da dire anche perché un eventuale scambio Brooklyn Nets ne avevo già parlato in un altro video su Arden e sulle Fanta Trade quindi diciamo che non mi spreco ulteriormente perché invece ci sono squadre nuove che ho aggiunto invece lì c'è da parlare lì invece c'è veramente da da discutere no tipo questa tipo questa e già qua qualcuno potrebbe prendere panico e dire what the fuck ok avete ragione what the fuck cercherò di essere tra l'altro mi sono fatto la guida la guida le mie stesse trade allora ok perché poi cioè nel senso mi sono dovuto anche preparare perché le ho fatte ieri notte poi sono andata a letto quindi magari cioè nel dormire ho cancellato parte parte della memoria allora perché i Knicks e perché Brooke Lopez va in Knicks allora i Knicks sono sotto il salary floor ovvero bisogna raggiungere per tutte le squadre NBA su 109 milioni almeno 98 sono da raggiungersi ok 98 100 milioni se non raggiungi quella cifra concorrono penalità multe cioè il contrario della luxury tax no ecco è uguale quindi i Knicks hanno circa 13-14 milioni da impegnare ancora qui se Brooke Lopez dovesse bastare per completare questa cosa in questo ipotetico scambio i Knicks potrebbero anche accontentarsi di un paio di scelte al draft secondo giro perché perché Milwock non può scambiare la sua 2021 e la sua 2023 le scelte al primo giro che Milwock ha sono la 21 e la 23 ma non le può scambiare per la regola Stapien perché la 24 e la 22 le ha girate a New Orleans quindi considerando questo Milwock è costretto a tenersi con le due pick non può scambiarle in nessun modo di conseguenza le uniche pick che Milwock ha sono le pick al secondo giro che hanno valore praticamente pari a 0 però i Knicks potrebbero anche farti un favore nel senso che ti dicono va bene mi mandi Bruklopets così io arrivo alla soglia che devo avere per per l'appunto non incorrere in penalità mi dai due scelte al secondo giro visto che alla fine mi fai anche un favore visto che io ho il giocatore per arrivare a quella soglia perché i Knicks non possono scambiare nessuno perché se scambi qualcuno la soglia si abbassa perché ci sono delle uscite e quindi il salary cap si abbassa il team salary dovrei dire dei Knicks si abbassa quindi prendere un giocatore senza ricevere nulla ora non so se Milwaukee riceverebbe una trade exception da 12.6 ma penso proprio di sì e ricevendo una team exception da 12.6 potrebbe anche prendere qualcuno a sua volta ulteriormente che ovviamente rientra in quei 12.6 milioni di Brook Lopez ok i Knicks si mettono dentro solamente per prendere due scelte al secondo giro che poi le puoi mettere in trade future te le puoi tenere le puoi spostare puoi far trade up quello che hanno fatto quest'anno in particolare no? ecco hanno preso le loro due pick al secondo giro e le hanno trasformate in una pick al primo giro con Utah se non sbaglio ecco farebbero la stessa cosa no? Oklahoma City si mette in mezzo Oklahoma City si mette in mezzo e prende Chris Middleton e qui ovviamente molti sono rimasti sicuramente sono rimasti male perché ha detto che senso ha per Oklahoma City prendere Chris Middleton ora per Oklahoma City ha senso prendere Middleton per un semplice motivo innanzitutto anche Oklahoma City ha problemi di cap floor e quindi garantendo il contrattone di Middleton sicuramente per i prossimi anni visto che tu tencherai hai tantissime pick al draft hai bisogno che qualcuno ti occupi il salary cap il team salary in modo che raggiungi comunque il cap floor ok? il salary floor e Middleton è una garanzia da questo punto di vista 33 35 37 40 con player option sull'ultimo anno quindi Middleton sicuramente ti aiuta in questa visione di occupare spazio salariale tanto tu vuoi andare al draft e i contratti del draft sono al massimo di 12 poi ovviamente dipende dal salary cap però il massimo è 10 11 12 milioni per un rookie ok? quindi poi vanno scendendo man mano che si scende col draft si scende anche con i contratti quindi Middleton in quest'ottica ti aiuta tu muoveresti Orford però quindi Oklahoma City prende un contratto spaventoso come Middleton e trade a un contratto altrettanto spaventoso come Orford questa trade non è possibile fino al 22 di dicembre ok? quindi dopo il 22 di dicembre è possibile fare questo scambio no? se dovesse se dovesse accadere no? quindi James Harden che va a Milwaukee Bucks da Gianni Santetokounmpo ok? quindi Middleton va a Oklahoma City perché per forza di cose per fare in modo che Harden vada ai Bucks Middleton deve andare via punto e anche Brook Lopez punto non ci sono altre non c'è un'altra via ok? non c'è letteralmente un'altra via uno tra Middleton sicuramente Middleton Brook Lopez forse può anche rimanere ma forse conviene che venga scambiato dipende da come da come Milwaukee se Milwaukee dovesse farcela ovviamente no? ecco ok quindi Houston cosa fa? Houston scende dalla Luxury come vedete meno 13 milioni Houston è in Luxury perché il suo team salary è di 142 milioni la Luxury Tax è settata a 132 quindi se Houston libera più di 10 milioni di spazio salariale Houston non paga la Luxury Tax che per il signor Fertitta per Mr. Fertitta che è l'owner è il presidente non pagare la Luxury Tax per una squadra che non può vincere il titolo è sicuramente una cosa migliore la Luxury Tax la paghi quando fai all-in per vincere un titolo perché i soldi che tu investi nella Luxury Tax che paghi di multa ti tornano indietro con la vittoria del titolo con gli sponsor con tutto quanto no? se invece non vinci il titolo e paghi pure la Luxury Tax sei cornuto e marziato no? ecco quindi per fare in modo che Houston non paghi la Luxury Tax PJ Tucker viene mandato ai Thunder insieme a una scelta al secondo giro che voglio dire tra l'altro i Thunder è vero Philadelphia ha la possibilità di scambiare le scelte però voglio dire sono scelte al secondo giro Oklahoma City può anche accontentarsi tanto PJ Tucker è un contratto annuale le pick gliele dà appunto Miluocchi con la numero della 2023 alla 2024 scelte al secondo giro è vero però comunque muovono Orford ok? quindi Oklahoma City potrebbe accontentarsi di Middleton e due pick al secondo giro per Orford che poi mandano a Houston ok? Houston cosa farebbe? prenderebbe Di Vincenzo quindi prenderebbe il post Arden anche se ovviamente la distanza tra i giocatori è abissale prenderebbe all'Orford che ovviamente sarebbe la insurance no? l'assicurazione per Cousins quindi se Cousins a tutti gli effetti è un giocatore irrimediabilmente perso è vero ai Christian Wood però è anche all'Orford quindi il diciamo il sentimento di Houston quale sarebbe? non riceviamo pick qui qui Houston non prende pick al draft come vedete non ce ne sono non esistono però però cosa succede? prendi Orford quindi comunque potresti rimanere competitivo potresti rimanere competitivo nel senso che comunque i tuoi playoff se Wall sta bene a tutti gli effetti potresti anche pensare di farli ovviamente si parla del bottom seed quindi dell'ottavo posto però se vuoi rimanere ai playoff vuoi rimanere rilevante vuoi rimanere comunque vuoi comunque rimanere una squadra che a Oves può fare i playoff o potenzialmente li può fare perché ovviamente poi ci passerebbe onestamente ci passerebbe di acqua sotto i ponti però non lo posso sapere comunque se vuoi fare ciò se comunque vuoi prendere un giocatore importante un giocatore con un bel contratto pesante perché ti manca il contratto pesante di Arden ti prendi Orford che comunque voglio dire magari in una situazione completamente diversa rispetto alle spazzature di Philadelphia potrebbe tornare anche l'Orford di Boston è vero l'età è quella che è però potrebbe tornare quello di Boston tra l'altro il contratto di Orford per il terzo anno è un non garantito quindi all'Orford avrebbe due anni di contratto e non tre e tra l'altro scade John Wall fra due anni alla player option sul terzo che quasi sicuramente accetterà però se John Wall dovesse per qualche motivo non accettare la player option tu fra due anni hai in scadenza sia Orford che lo tagli e quindi hai Orford mi pare sia garantito a alla metà del suo contratto penso e dovrebbe scadere e ti potrebbe scadere anche John Wall quindi libereresti due contratti in un colpo solo di questa trade non sono però un grande fan più che altro per i Knicks perché allora qualcuno potrebbe dirmi anche sì ma i Knicks perché prendono Brooke Lopez che occupano il cap beh occupano 13 milioni l'anno prossimo i Knicks hanno tutti i free agent quindi i due massimi salariali comunque li possono dare volendo anche se è rimasto solo Kawhi perché Giannis è esteso Lebrone è esteso Davis è esteso Paul George è esteso l'anno prossimo mancano o prendono De Rosan o prendono Kawhi praticamente quelli sono oramai di free agent tosti e quindi i Knicks potrebbero anche decidere di far partire Lopez dalla panchina rifirmano Mitchell Robinson e cercano di prendere un big quindi per i Knicks 13 milioni l'anno prossimo non valgono assolutamente nulla certo è un pluriennale tre anni però Brooke Lopez in una situazione come quella dei Knicks 13-13-14 onestamente non dovrebbe essere neanche un problema grosso per i Knicks da accollarsi un contratto del genere Oklahoma City il contratto di Middleton l'ho detto prima poi se Oklahoma City dovesse in qualche modo trovarsi super competitiva il contratto di Middleton dovesse essere un problema beh hai 17 pick future prendi Middleton prendi tre pick future le gira qualcuno quelli sono contenti e tu ti liberi spazio salariale o prendi un altro giocatore importante che ti potrebbe servire quindi per Oklahoma City prendere un contratto come Middleton non è un problema tanto loro per i prossimi 2-3 anni tencano quindi Middleton a Norford quindi possono prendersi anche Middleton da questo punto di vista ecco quest'altra invece è molto più chiusa non ci sono i Knicks e questa qui sarebbe molto più vantaggiosa per per entrambe le squadre dico che sarebbe più vantaggiosa per entrambe le squadre perché questa volta non ci sono i Knicks Bruklopez rimarrebbe sicuramente a Milwaukee non so onestamente se i tifosi Milwaukee sono contenti di questa cosa però cosa succede succede più o meno la stessa cosa di prima quindi ai Bucks va solo Arden e rimane Bruklopez i Thunder acquisiscono due giga contratti come quelli di Eric Gordon e Chris Middleton di Middleton ne ho già parlato di Eric Gordon non ancora Eric Gordon ha un contratto di quattro anni ma garantito solo tre anni quindi se viene tagliato alla fine del terzo anno il cap quindi il costo del suo contratto è zero quindi tagliare Eric Gordon a fine del terzo anno equivale a liberare 20 milioni spaccati perché l'ultimo anno di Eric Gordon è 20 milioni quindi il contratto di Gordon per una squadra come Oklahoma City fra tre anni è oro colato perché Oklahoma City fra tre anni dovrebbe aver completato il tanking o comunque dovrebbe essere sulla buona strada liberare 20 milioni spaccati chi se ne frega cioè nel senso anzi no liberare 20 milioni è spettacolo ok Houston in questa maniera cosa fa beh libera PJ Tucker e Eric Gordon quindi libera ben 23 milioni in un colpo solo si accolla sempre Orford è vero si accolla sempre Orford ma esce dalla luxury ancora una volta Georgil l'anno prossimo ha un contratto non garantito quindi liberano circa 7 milioni perché Georgil è garantito 2 milioni l'anno prossimo e DJ Wilson e Darius Miller sono altri giocatori in scadenza quindi tecnicamente Houston libera 17 milioni già quest'anno e ne libera 4 11 e altri 7 fan 18 che vorrebbe dire avere molta più flessibilità dal punto di vista di rilanciare la squadra ovviamente Oklahoma City prenderebbe scelte dall'oggi al mai più perché ovviamente Eric Gordon non se lo accollano senza pick però pick al primo giro non te le prendono perché Eric Gordon o meglio tu non gliele dai perché Eric Gordon è un contratto non garantito a 0 sul quarto anno quindi le pick al primo giro sono troppo esagerate gli dai scelte al secondo giro certo gliene dai 2 o 3 per accollarsi a Eric Gordon però sono comunque pick che a Oklahoma City fanno comodo pagare Eric Gordon come ho detto prima insieme a pagare Middleton non è un problema tanto i soldi per rifirmare Shai ce li hanno i soldi per rifirmare Dort ce li avranno perché Dorc ha altri due anni di contratto i soldi per rifirmare Besley tanto Oklahoma City ha tutti i contratti rookie quindi si parla fra 3-4 anni per quanto riguarda le rifirme le estensioni e queste cose qui quindi pagare Gordon per 3 anni e poi tagliarlo per rifirmare i tuoi giovani ci puoi star dentro così come Middleton Middleton applica la player option tu prendi 4 pick future le mandi con Middleton da qualche altra parte e ti sei fatto lo spazio salariale che volevi per prendere un big free agent per firmare la tua stella al massimo salariale o queste cose qui prenderebbero anche di Vincenzo qui però attenzione perché ovviamente questa volta questa volta quello che ottengono in cambio è veramente nulla e da questo punto di vista non basterebbero le pick no? perché comunque Oklahoma City ti dice ok va bene che mi mandate Middleton e io do via Orford va bene che mi date un sacco di pick al secondo giro però il contratto di Tucker e di Gordon a me non me ne frega nulla siccome Milwaukee vuole Arden e siccome Houston vuole mandar via vuole mandar via Arden vuole scambiarlo allora potrebbe essere che visto anche che purtroppo Brook Lopez rimarrebbe a rimarrebbe a Milwaukee purtroppo i Bucks devono pareggiare sto contratto il contratto di Arden lo devono pareggiare e l'unico disponibile al momento per pareggiarlo è Di Vincenzo quindi sono 33, 36 40 milioni e mezzo che è la differenza di questi più 610k quindi Di Vincenzo deve essere per forza messo in questa trade per pareggiare il contratto di Arden finirebbe ai Thunder come garanzia di Middleton Houston si accontenterebbe di contratti in scadenza e di Alorford sempre per rimanere in tema di vogliamo rimanere vogliamo rimanere comunque vogliamo rimanere a galla vogliamo rimanere più o meno rilevanti a ovest col pick and roll Wall Orford che non so fino a che punto sia utile però se Arden deve andare ai Bucks pick non ne può prendere mi dispiace ma Milwaukee non ha pick al draft se non il secondo giro scelta al secondo giro quindi ecco io credo che la destinazione di Arden ai Bucks sia proibitiva da questo punto di vista perché non hanno pick quindi ecco questa è la roba letteralmente che può prendersi Houston se dovesse mettersi in mezzo Oklahoma City se si mette in mezzo New York è la stessa cosa non cambia assolutamente nulla quindi credo che sarà difficile Arden ai Bucks a meno che Houston non faccia veramente delle cose del genere e una terza squadra è obbligatoria una terza squadra è assolutamente obbligatoria in quello scambio lì si parla dei Miami si parla dei Miami e io non credo che neanche qui verrà fatta a Miami perché Riley non è un GM non è una persona da all in non è una persona da da rischio altissimo no Riley rischia quando sa che il successo è dietro l'angolo con Arden dovresti dar via letteralmente mezza squadra e dar via mezza squadra una settimana prima di inizio della regular season poi devi trovare devi firmare giocatori che occupano i posti a roster rimanenti tra l'altro qui sono stato anche buono con Miami perché non ho messo dentro Duncan Robinson che potrebbe finire al posto di Chris Silva tipo in 4-4-8 anche qua Miami purtroppo pick non ne ha ha solo pick future da poter dare certo il post Arden il post Butler che hanno la stessa scadenza tra l'altro non solo la stessa età ma anche la stessa scadenza di contratto il problema è che qui Houston è vero prenderebbe il futuro prenderebbe Irro prenderebbe Nan prenderebbe anche Duncan Robinson probabilmente in tutto ciò però non ha i pick al draft quindi devi sperare che Irro Robinson comunque Duncan Robinson ha 26 anni cioè nel senso non è un giocatore di 22 Duncan Robinson è a 26 quindi ecco diciamo che si è giovane per carità io ne ho 27 quindi non mi considero vecchio però non sei neanche un 21enne cioè questa è una bella differenza per quanto riguarda un rebuilding tra un giocatore di 26 e uno di 21 da un punto di vista prettamente di futuribilità quindi l'unico vero giovane su cui dovresti puntare è Tyler Irro e devi sperare che Irro ti diventi Similarden o a quei livelli lì e e non hai pick che ti garantiscono neanche un'eventuale via d'uscita in caso Irro non diventi come Arden e ripeto questa trade non la vuole fare Miami è Riley che ti dice no in questa trade non è Houston Houston ti dice anche va bene è Riley secondo me che è molto riluttante nel dar via mezza squadra per prendere un giocatore che potrebbe anche non girare all'interno della tua squadra mettendoti da un punto di vista salariale in difficoltà perché sono 9 milioni in più con la firma di Adebayo e il contratto di Butler poi tu sei messo malissimo l'anno prossimo è vero che l'anno prossimo dal punto di vista da free agency è rimasto solo Kawhi però per completare la squadra poi sono problemi l'anno prossimo è vero scade Myers Leonard scade Dragic quindi qualche soldo liberi però insomma Harden sono 44 l'anno prossimo Butler dovrebbero essere 30 30 e qualcosa Adebayo entra il il massimo salariale l'estensione che ha firmato sono altri 30 insomma siamo a 100 milioni con 3 giocatori ridendo e scherzando e se il salario di K l'anno prossimo uguale a quest'anno il K è a 109 quindi hai 9 milioni liberi più la mid level exception però è la biannual però voglio dire hai 9 milioni e 2 eccezioni salariali per prenderti 10 giocatori la coperta è molto corta Miami quindi non so fino a che punto Raleigh voglia rischiare una cosa simile vediamo Miami è sicuramente come dire la delusa della firma di Giannis la più delusa sicuramente perché la loro free agency era basata su di lui e hanno perso la scommessa quindi se Miami vuole veramente dare fastidio definitivamente è quasi portata a prendere Arden per mandare un messaggio a fila a Boston nel senso di dire ok abbiamo fallito il nostro primo obiettivo ma tec ci rifacciamo con Arden cioè abbiamo perso Giannis per prendere Arden quindi ci credevate scemi e invece ci siamo presi Arden quindi sarebbe un bel rilancio per Miami dal punto di vista di dar fastidio ai piani alti l'unico problema è che questo rilancio è un rilancio veramente all-in e non so se Raleigh è disposto ad andare all-in in questa maniera perché sarebbe una maniera veramente netta sarebbe un taglio netto a Miami e sono troppi giocatori per due giocatori vabbè Nuaba l'ho messo solo per poterlo mandare a Arden perché questi qua non bastano a livello salariale non bastano a livello salariale e Nuaba era obbligatorio per per il numero di giocatori a roster di 15 giocatori perché Houston ne ha troppi anche se Clemons si è fatto il tendine da kill stanotte però questi qua sono tutti garantiti quindi non credo che Miami sia disposta a sacrificare tutto per Arden certo per Arden devi sacrificare tutto ma non so se Riley è disposto a farlo ora questa accade solo a febbraio era uscita era uscita come rumor Denver fosse interessata beh ovviamente questa è la trade poi ci potrebbero essere pick future anche quasi sicuramente ci sarebbero pick future beh è abbastanza straightforward nel senso che voglio dire Denver va all in totale PJ Tucker deve andarci per forza Houston rimane comunque in luxury rimane comunque in luxury però ti prendi tre giovani e qui si che Houston se la gode perché prendono Hampton Ball Ball e Michael Porter Junior che sono tre giovani Gary Harris e Burton sono entrambi biennali quindi fra due anni scadono e chi si è visto si è visto prendi tre giovani di cui uno è Michael Porter Ball Ball che se il fisico permette è anche un signor giocatore RJ Hampton dobbiamo vederlo perché è stato draftato quest'anno però voglio dire più pick future sicuramente i Nuggets vabbè i Nuggets vanno all in totale però anche qua cosa succede succede che Denver deve dare via mezzo roster perché questo è mezzo è praticamente mezza panchina perché Burton poi dipende da chi è titolare no comunque Burton può essere sia panchinare o sia titolare Porter Junior può essere sia titolare che panchinaro Gary Harris è un titolare dovrebbe essere titolare nello spot di due Ball Ball dalla panchina può giocare anche se forse gli viene ancora preferito Millsap e Hampton è sicuramente un giocatore che nel futuro sarebbe uscito dalla panchina addirittura titolare insieme a Jamal Murray nella Denver del futuro facendo così Denver diventerebbe uno squadrone Murray Yoki Charden è vero che anche qua salarialmente parlando i Nuggets avrebbero problemi per il futuro però è un all in nell'all in è calcolato il rischio che ti potrebbe andare anche male però per Harden lo fai per Harden lo fai assolutamente quindi ecco per Houston potrebbe essere un altro un altro sbocco questo potrebbe essere un'altra via di fuga in caso nessuno sia disposto a dare pick future giovani oppure una superstar di livello arriva a Denver e dice senti ti do i miei tre giovani te li do tutti ti do Harris e Barton perché a livello salariale se no non ci stiamo e ti do tre pick future ti va bene? beh se Houston non ha qui renti se Houston non ha finito le squadre con cui trattare potrebbe essere anche una via d'uscita potrebbe essere un modo per un modo per comunque ricevere qualcosa per il futuro chiaramente come ho detto prima questa trade può essere fatta solo a febbraio perché Bolbol ha firmato e quindi solo a febbraio può avvenire essendo un visto che era già un giocatore di Denver avendolo firmato scatta appunto la non tradibilità per un tot di tempo per un certo periodo non lo so può essere un'alternativa dai una delle varie alternative che Houston potrebbe intavolare questa potrebbe essere un'altra certamente vai a migliorare una diretta concorrente a Ovest però voglio dire tu pensi a te se devi tankare non pensi di certo al fatto che i Nuggets diventino competitivi per i prossimi due anni visto che poi Arden ha la player option ma secondo me come dicevo come dicevo prima secondo me si estende parecchio questa qui è failed semplicemente per per Nesmith anche questa dovrebbe avvenire dovrebbe avvenire a febbraio perché Nesmith è stato messo sotto contratto niente vabbè Boston farebbe l'all-in anche lei questa l'ho messa veramente giusto per aggiungere Boston non credo mai avverrà questa trade anche qua nel senso per forza di cose Smart per forza di cose Brown che sono i due giocatori che salarialmente pareggiano Arden Robert Williams e Aaron Nesmith come il futuro due pick al draft che ovviamente sono per il post Arden queste e come al solito P.J. Tucker e James Harden vanno a Boston Boston avrebbe uno dalla panchina P.J. Tucker avrebbe Arden con Kemba e Tatum o P.J. Tucker potrebbe essere il titolare fanno Kemba Arden Tatum Tucker e Tristan Thompson chiaramente perdi Smart e perdi Jalen Brown però anche qua siamo ad Arden se proprio la situazione a Boston è irrimediabile che vedono che proprio non c'è verso di essere competitivi al 100% per poter competere per l'anello e Inge potrebbe anche pensare di appunto andare all-in anche lui e per Arden questo lo fai per Arden l'all-in lo fai indipendentemente dai problemi del giocatore da come gioca Arden è una è un trentello ambulante per Arden lo devi fare questo è molto fantabasket questo è molto fantabasket qui veramente siamo proprio a raschiare il fondo nel senso se Houston veramente sta raschiando il fondo o Memphis vuole fare il colpo della vita vuole fare Morant e James Arden insieme questa potrebbe essere plausibile da quel punto di vista perché comunque Memphis i giovani da dare li ha Brandon Clark Jaren Jackson di Leon Brooks Justice Winslow è un contratto con Team Option quindi l'anno prossimo lo rifiutano la Team Option l'opzione squadra e liberano subito 13 milioni Memphis ha le pic al draft da dare le tre pic che Houston vuole Kyle Anderson ci va dentro perché ovviamente mandiamo PJ Tucker sempre no amici per la pelle indissolubili inseparabili Arden e PJ Tucker ovviamente PJ Tucker lo prendono anche per liberare Spazio Salare l'anno prossimo e e niente questo è veramente fantabasket perché Memphis non si è mai sentita nessuna trade però però magari Houston anche qua no ha finito completamente gli acquirenti vede in Memphis vede questi tre giovani Brooks Jackson e Clark e richiama richiama e dice senti cara Memphis io ho Arden disponibile lo sapete no? ecco se mi date Brooks Jackson e Brandon Clark e tre pick al draft è vostro insieme a Morant beh certo poi bisognerebbe completare il resto della squadra non sarebbe una squadra immediatamente da titolo però però con l'esplosione di Morant con Arden e magari qualche firma che a quel punto Memphis diventerebbe anche un mercato appetibile decisamente visto che arriva Arden P.J. Tucker lo rifirmi sicuramente da questo punto di vista e Memphis Memphis tutto d'un tratto si fa Morant e Arden certo sacrifica tre giovani su quattro però quello migliore te lo tieni che è Morant ovviamente Memphis Morant non lo dà però per Clark Jackson e Brooks forse e dico forse si potrebbe fare ovviamente è quasi è molto difficile però l'ho messa perché è possibile plausibile questa cosa è plausibile così come plausibile è questa però qui siamo in terminologia proprio da da pulire Arden cioè nel senso che ok te ne vuoi andare maledetto stronzo te ne vai a New York un po' quello che fece gli Spurs con Kawai te ne vuoi andare maledetto stronzo ti spediamo a Toronto e ci ha vinto l'anello quindi pensa un po' no? ecco immaginatevi se Arden tu te ne vuoi andare brutto stronzo ti mandiamo a New York vince l'anello con i Knicks allora beh qui la solfa è la stessa la solfa è praticamente la stessa non preoccupatevi per Randall Randall ha un contratto non garantito l'anno prossimo va 4 milioni a cap se tagliato alla fine dell'anno quindi Houston lo pagherebbe solo 4 milioni quindi a livello salariale per quest'anno serve per Arden l'anno prossimo lo tagliano e pesa il cap solo 4 milioni lo scambio anche qua abbastanza straightforward nel senso che ovviamente i Knicks darebbero via due dei loro tre giovani l'altro è Mitchell Robinson ma essendoci Wood i Knicks potrebbero anche dire no dai c'hai Wood non te lo diamo anche perché Houston scenderebbe sotto la Luxury con questo scambio e non pagare la Luxury vi ripeto per una squadra che non vince il titolo è cosa buona e giusta i Knicks hanno le loro pick a draft 21, 23, 25 le loro pick a draft ovviamente Toppin e Barrett sono da mettere dentro perché per Arden il futuro nel senso Houston vuole il futuro quindi glielo dai Bullock serve per pareggiare il contratto di Arden e ci mandi come al solito PJ Tucker per scendere sotto la Luxury quindi PJ Tucker questa volta viene inserito per scendere sotto la Luxury e pagare meno soldi failed per quale motivo perché appunto Toppin è appena stato firmato quindi può essere scambiato più avanti quindi non subito questa ma più avanti però pazienza nel senso che se i Knicks sono disposti a dare a offrire questa cosa qui per James Arden why not nel senso che i Knicks si metterebbero immediatamente nel radar per l'anno prossimo perché se arriva Arden al Madison Square Garden e i Knicks hanno tutto quello spazio salariale l'anno prossimo perché hanno ancora tutti in scadenza perché alla fine questi sono tutti contratti pluriennali e i Knicks terrebbero tutti gli annuali che hanno li terrebbero tutti quindi andrebbero tutti in scadenza l'anno prossimo l'unico da firmare sarebbe Mitchell Robinson ma lo fai volentieri e poi hai letteralmente tutto lo spazio salariale che vuoi puoi farti la squadra come più ti pare piace facendo questo scambio puoi anche stendere Tucker ovviamente a meno soldi di 8 milioni e poi i Knicks li vediamo con Arden a remare e con la squadra fatta su misura per lui l'unico problema è Tibodo che ce lo spacca lo sapete che Tibodo ce lo spacca però vediamo comunque questa potrebbe anche essere questa potrebbe anche essere perché comunque ripeto l'anno prossimo non è rimasto nessuno solo Kawhi è rimasto è rimasto solo Kawhi tra i free agent si poi c'è De Rosan c'è Aldridge c'è Colley c'è Gobert però voglio dire non sono i big che ci aspettavamo l'anno scorso l'anno scorso potenzialmente c'erano Davis Lebron De Rosan Paul George Kawhi Leonard cioè siamo passati da questi 5 a De Rosan Kawhi Aldridge Colley cioè Whiteside Millsap cioè letteralmente al nulla assoluto solo Kawhi e il resto è nulla ok quindi i Knicks potrebbero anche dire senti tanto oramai non è rimasto più nessuno come free agent non è rimasto nessuno perfetto c'è Harden libero ti assicuri James Harden ai Knicks e lì poi le luci della ribalta arrivano insomma quindi ecco i Knicks potrebbero anche pensarci di fare questa cosa ovviamente Houston si prende giovani pick via dalla luxury è la situazione perfetta per i New York Knicks è per scusate sia per i Knicks ma anche per Houston è perfetta perché non paga la luxury ed è contenta prendendo asset futuri questa è la mia preferita questa è la mia preferita di non di gran lunga questa è veramente la mia preferita di gran lunga questa è una spaziale trade questa è veramente spaziale questa è spaziale per tutte e tre qui veramente qui c'è l'essenza della della trade per Harden questa è spettacolare sotto ogni punto di vista che che voi guardiate questa è la miglior trade a mani basse di questo di questo video di questo lunghissimo video ma questa è la miglior trade che potete pensare per mandare Harden da qualche parte questa è la migliore partiamo da Houston sotto dalla luxury tax John Collins Werther Reddish Hunter due pick al draft contratti in scadenza perfetto Atlanta contender domani mattina San Antonio prende Cappela ma tanto voglio dire se l'obiettivo è tencare se l'obiettivo è tencare no se l'obiettivo è tencare il contratto di Cappela esatto te ne fai anzi tra l'altro San Antonio risparmia pure tutto ciò che te ne fai vabbè lo paghi lo paghi prendi cinque pick al draft cinque di cui uno al primo giro che è quella di Atlanta che va bene con Arden ovviamente varrà poco però è una pick in più poi ne hai quattro al secondo giro che puoi anche spostare volendo insieme a tuoi giocatori o puoi fare anche o puoi fare anche ehm puoi anche fare trade up cioè prendi queste due prendi queste due scelte al secondo giro le impacchetti e prendi una scelta trenta una ventotto una ventinove insomma poi le opportunità ci sono anche con le pick al secondo giro per poterle spostare più che altro no? e fare poi trade up Capella lo paghi a tempo perso tanto voglio dire il tuo obiettivo è quello di tencare McLemore lo prendi perché così Houston va definitivamente sotto la luxury e Atlanta Atlanta prende due veterani PJ Tucker e Patty Mills è vero hanno preso Dunn hanno preso Rondo hanno tre Young però Patty Mills può comunque essere utile come tiratore quindi magari ti serve tiro è una partita dove magari Rondo nel senso ti serve tiro ti serve allargare il campo e ti presenti con con Mills tra Young e Arden o magari Young o Arden sono in problema di falli quindi c'è Rondo è vero c'è Chris Dunn però insomma bene ma non benissimo hai comunque Patty Mills che è vero l'anno scorso sembrava un cadavere poi non lo so magari la situazione Spurs magari che l'ha dereso così magari cambiando squadra diventa ovviamente torna a essere il Patty Mills quello delle Finals di tanti anni fa contro Miami anche se onestamente la vedo dura però non si sa mai no? nel senso non si sa mai tra l'altro qualcuno potrebbe dirmi ma com'è possibile che Atlanta prende tutti sti contratti e può pagarli? Atlanta nonostante la firma di Gallinari e la firma di Bogdanovic ha ancora circa un 10 milioni liberi quindi quei 10 milioni sono molto utili in questa situazione perché puoi permetterti anche di non pareggiare i contratti perché avendo 10 milioni liberi circa 10 milioni ce li hai gratis a tutti gli effetti ce li ho gratis li uso questa trade secondo me è la migliore a mani basse Houston prende tutto Houston prende tutto 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 a fianchi Wall con Giovani con Collins pick future al draft queste pick sono dopo Arden come al solito sono post Arden San Antonio prende contratto in scadenza contratto a tempo perso anche se pesante parecchie pick al draft tra l'altro anche qua se San Antonio si ritrova in una posizione di poter competere bla 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 cosa fa? prende le pick al draft prende Capella e lo sposta più avanti no? ecco voglio dire questa sotto ogni punto di vista va a vantaggio di tutte secondo me va letteralmente a vantaggio di tutte Atlanta sarebbe uno squadrone Atlanta sarebbe a questo punto sarebbe sicuramente in lizza almeno per le finali di conference Young Arden Bogdanovic Tucker Okongwu e dalla panchina avresti avresti Rondo Gallinari Dan cioè senso non è una brutta squadra l'Atlanta così poi devi prendere qualche free agent però vabbè al minimo salariale te lo prendi non è un problema insomma direi che questa trade qui è la migliore è sicuramente una trade che se dovesse accadere sarebbe clamorosa perché è clamorosa una trade a trade questa portata però sicuramente Houston qui si sfregherebbe le mani e tra l'altro io nel video appunto delle previsioni della Easter Conference l'ho detto guardate che Atlanta si è messa nelle condizioni di poter fare di poter prendere tutti sti giovani e impacchettarli per una superstar e Houston sarebbe più che contenta di accollarsi quattro giovani quattro Collins ha 23 anni Werther ne ha 21 Reddish ne ha 22 Hunter ne ha 23 se non sbaglio comunque quattro giocatori sotto i 23 anni più due picca al draft insomma a Houston ballano ultime due ce l'abbiamo fatta allora questa togliete Clemons poverino che si è fatto giusto ieri notte l'ho messo ieri notte ho fatto ho fatto ste ieri notte ho fatto ste trade Clemons ha il coraggio di rompersi il tendine d'Achille giusto ieri notte vabbè togliete Clemons mettete Mclemore mettete ben Mclemore ecco questa sarebbe Hyper Stonks questa avrebbe del clamoroso vista la la rifirma di Paul George giusto giusto settimana scorsa ehm traderebbero lui Williams e Clippers che volevano già tradare andrebbe ovviamente PJ Tucker con Arden siamo sempre lì due amici inseparabili ehm Zuba che è il futuro che Houston vuole quindi qui non ci sono pick perché eh i Clippers non ne hanno ahi noi non ne abbiamo ehm feels like Houston Rockets si sanno bene il feeling da questo punto di vista questa ovviamente è una trade proprio se se i Clippers proprio esplodono del tutto cioè nel senso se veramente litigano Kawhi Paul George che i Clippers non sanno da che parte muoversi se Kawhi dice io non rifirmo se non mi mandate via quel testa di cazzo ti prendiamo James e Houston cosa fa? Houston prende una superstar prende una superstar prende Zubac che alterna con Wood quindi c'ha l'alternativa se Causing è veramente un cadavere però qua veramente siamo a disperazione da una parte e disperazione dall'altra eh cioè qua veramente è la trade dei disperati questa è veramente la trade dei disperati a tutti gli effetti questa è veramente quasi impossibile l'ultima è una variazione di quella con Atlanta ma ma ad Atlanta ci si incastra pure il crotalo dell'Oregon la Marcus Aldridge perché mancherebbe il centro visto che va Capella allora a questo punto è Capella per Aldridge è già un altro discorso la trade è stata aggiustata ovviamente è stata aggiustata per eh perché Aldridge ha un bel contrattino Atlanta non ha spazio salariale infinito purtroppo Atlanta ha contratti abbastanza bassi oltre quello di Capella praticamente e Gallinari e Bogdanovic ma Gallinari non l'ho voluto muovere perché mi sembra scandaloso che muovano Gallinari cioè nel senso è scandaloso dal punto di vista forse umano dal punto di vista morale dal punto di vista invece di insomma di assestamento Gallinari lo spediscono domani da qualche parte attenzione cioè se se ad Atlanta dici che scambiare Gallinari porti una superstar e porti due signor giocatori Gallinari te lo portano a piedi ovunque quindi ecco da quel punto di vista sarebbe cioè sarebbe scandaloso dal punto di vista umano no? che l'hai firmato e poi lo scambi subito cazzo di senso aveva firmarlo allora però da un altro punto di vista cioè dal punto di vista di migliorare la squadra lo fanno subito signor Schleck che è il eh Schenko Schleck non mi ricordo signor Adam comunque signor Adam Adam me lo ricordo poi non mi ricordo se è Schenko Schleck penso Schenko ehm te lo fa subito eh eh te lo porta in taxi pagato da lui ecco quindi la trade è praticamente uguale non cambia assolutamente cioè qualcosa cambia perché San Antonio prende qualche giocatore in più però per forza di cose perché il contratto di Aldridge è pesantino eh rimarrebbe andrebbe lo stesso PJ Tucker volendo per facilitare questa trade PJ Tucker non ci va ad Atlanta quindi PJ Tucker potrebbe rimanere a Houston però eh abbiamo esagerato abbiamo estremizzato il concetto tra l'altro gli Spurs libererebbero un fottio della Madonna di spazio salariale 25 milioni puoi mandare De Rosa ovunque vuoi dopo nel senso che puoi mandarlo dove vuoi puoi estendere Derrick White senza alcun problema tra l'altro eh volendo cosa che possono già fare estendere Derrick White senza nessun problema però voglio dire lo puoi fare con molta più tranquillità eh Houston è vero rimarrebbe in luxury in questo caso perché si accollerebbe anche Patty Mills visto che Patty Mills non può più andare ad Atlanta perché ci va Aldridge quindi non c'è più lo spazio però se se gli Spurs ti dicono eh se gli Spurs ti dicono va bene ti voglio andare anche Patty Mills perché 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 San Antonio in questa maniera cosa fa può collarsi un contrattone più altre pick scuola Oklahoma City no? ecco quindi se c'è un contratto brutto che una squadra non vuole lo mandi a San Antonio e San Antonio si prende pick ad esempio Victor Oladipo 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 è un contratto annuale in scadenza se Indiana vuole fare l'upgrade no? 3 da 3 e dice senti San Antonio io Oladipo te lo mando guarda ti mando anche una pick Futural Draft tu ti prendi Oladipo lo paghi 20 milioni tanto l'anno prossimo scade no? quindi a te non te ne frega un cazzo bene e io mi faccio l'upgrade perché magari voglio voglio puntare alle top 4 a est poi non so fino a che punto Indiana può puntare alle top 4 a est però avete capito il senso no? quindi gli Spurs avrebbero un sacco di spazio salariale un casino di spazio salariale per accollarsi magari uno o due contratti brutti ma con delle scelte con delle pick quindi in questa maniera fanno la Oklahoma City del Texas no? Atlanta avrebbe il centro perderebbe Capella ma avrebbe comunque Aldridge e Okongwu quindi avrebbe il centro titolare e la riserva sempre Arden sempre PJ Tucker l'unico problema è che dovrebbe dar via tutta la squadra quindi dovrebbe per questo è un'esagerazione quindi dovrebbe letteralmente andare a prendersi tutti i free agent tutti al minimo salariale almeno cinque almeno cinque free agent al minimo salariale quindi gente come Iliasova come J.R. Smith come Waiters che voglio dire solo due forse entrerebbero in rotazione solo due giocherebbero qualche minuto però è comunque difficile cioè nel giro di una settimana trovare cinque giocatori insomma ripeto è vero che ne giocherebbero giocherebbero due tre minuti due giocatori e gli altri fan panchina e guardano poi ai playoff figuriamoci però insomma da un punto di vista prettamente di organizzazione non è il massimo che a una settimana dall'inizio della regular season che inizio a una settimana dalla regular season devi trovare cinque giocatori ecco quindi questa sarebbe è estremizzata al cento per cento questa è estremizzata al cento per cento però si potrebbe fare in un ipotetico mondo parallelo alternativo si potrebbe fare comunque sicuramente quella di prima con gli atlanta ox è la trade per eccellenza quella è veramente la trade con la veramente con la t maiuscola quella è veramente bellissima fatemi sapere allora cosa ne pensate alla situazione Arden e secondo voi di queste trade qual è la più plausibile e perché io vi ringrazio vi saluto ci vediamo al prossimo video grazie